E quattro! Ecco fatto! Guarda Riccardo, ho messo in ordine tutti i numeri! Ciao George! Ehi, ciao! Che dici? George ha messo in ordine tutti i numeri? Mmm, a me sembra che George i numeri non li ha messi in ordine. George, che dici? Impariamo a contare insieme? Va bene, ci sto! Allora, ho qui con me un unicorno e della plastilina! Allora George, dimmi, quante corna ha l'unicorno? Uno! Allora, con l'aiuto della plastilina facciamo il numero uno! Oh 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 oh! Guarda quanta! Riccardo, aspetta! Faccio anche io! Ah, grazie mille George! Sei stato di grande aiuto! Benissimo, ora abbiamo il numero uno! Wow, bello! Ma dimmi Riccardo, qual è il prossimo numero? E adesso George, il prossimo numero me lo dirai tu! Ho qui con me un piccolo toro! Quante corna ha il piccolo toro? Oh! Uno! Due! Due corna! Giusto George! Ora facciamo il numero due con della plastilina blu! Oh oh oh! Numero due! Mi piace un sacco il colore blu! Tilosaura! Molto bene! Abbiamo fatto il numero due! George, dimmi, quanti numeri abbiamo? Abbiamo uno... Due! Bravo George! Due numeri! Ehi ma... Cos'è questa puzza? Ciao a tutti! Ehi Shrek! Ti puzza un sacco l'alito! Ciao Shrek! Shrek, te hai bisogno di aiuto! Hai alcuni denti cariati! Mettiamoli nuovi! Ah sì! Grazie mille! Ne avrei proprio bisogno! Abbiamo qui della plastilina bianca! Creiamo prima i denti nuovi! Grazie a questa plastilina! Oh! Guarda! Questo dente è uscito perfetto! Faccio ancora due denti! Molto bene! Prima di dare a Shrek i nuovi denti dobbiamo prima estrarre i denti cariati! Shrek, apri bene la bocca! Attenzione! E ora possiamo posizionare i denti nuovi! Riccardo! Grazie mille! Allora George, dimmi! Quanti denti abbiamo cambiato a Shrek? Tre denti! Giusto George! Il numero 3! Che faremo? Grazie alla plastilina gialla! Aspetta Riccardo! Anche io! Oh ma come sei bravo George! Oh ma come sei bravo George? Wow! Abbiamo creato il numero 3! Giusto George! Andiamo avanti! Dimmi, quante ruote ha questo camion? Mmm! Vi diamo un po'! Uno! Due! Tre ruote! Tre ruote? Mmm! Molto strano! Ehi guardate! Ho trovato la ruota del camion! Grazie Shrek! Dai! Muoviamoci! Montiamo subito questa ruota! Molto bene! George! Contiamo nuovamente le ruote! Allora! Uno! Due! Tre! Quattro! Riccardo! Il camion ha quattro ruote! Giusto George! Ora comporremo il numero 4 con la plastilina di colore verde! Wow! Ma quanti numeri! Allora George! Quanti numeri abbiamo adesso? Uno! Due! Tre! Quattro! Quattro numeri! Giusto George! Guarda ora cosa ho qui con me! Ho qui con me una formina ed è la sabbia cinetica! Oh! Interessante! Vediamo un po' che risultato abbiamo! Oh! Ma che bel fiore! George! Dimmi! Quanti petali ha questo fiore? Inizio a contare! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Cinque petali! Di conseguenza comporremmo il numero 5 con questa plastilina di colore viola! Ci siamo quasi! Molto bene! Abbiamo creato anche il numero 5! Ora riconto da capo! Uno! Due! Tre! Quattro! Cinque! Cinque numeri! Finalmente ho imparato a contare! Evviva! Hai visto George? Hai imparato a contare fino a 5! Sei stato davvero bravo oggi! Sì! Sono felicissimo! E io George sono felice per te e a te se il video è piaciuto lascia un like e iscriviti al canale! Ci vediamo alla prossima! Ciao!